E' per i tuoi trofei di gara E' per te Trasformeranno il tuo libro in un film Vorrei sentirmi meno a disagio Sfrutta al massimo questo momento Non capisco solo perché voi non mi stiate rispondendo Non stai dicendo niente Mancano moltissime foto Le ho mangiate Cosa? Mi sono sposata senza nemmeno sapere com'era Potresti restituirlo Qual è il motivo per cui restituisce suo marito? Da dove devo iniziare? Oh mio Dio Chi può essere stato? Sono un fantasma E' un feccato che tu sia un tipo così attraente Se vuoi vendicarti come un uomo Vestiti come lui O non vendicarti affatto E' l'altra chance Mi vedo con qualcuno Oh mio Dio E' sposato? No Ti va un dessert? Ti metto a letto io? Ti va? E' molto rischioso Quello che le hai promesso Non so davvero come facciate voi donne Stregoneria per lo più Se sono un fantasma Per quale motivo ho ancora i crampi? Non so davvero Grazie a tutti